Tanto va ad examinare una parola. La parola. Osserviamo il processo che avviene in questa descrizione dell'Angelo. C'è un cieco, seduto, e non sa chi passa. La sua parola diventa l'informazione necessaria per procedere. Chiede, chi passa? La risposta del popolo è introdotta da un'espressione interessante. Gli annunciarono, vuol dire, non semplicemente gli dissero. Ma si usa la stessa parola, che si usa per dire lo evangelizzano. La risposta della gente è il primo buon annuncio. A quel punto l'annuncio chiede un'altra parola di risposta. E infatti questa risposta è talmente importante per il cieco che diventa un grido. E questo grido è la professione di fede che risponda all'evangelizzazione. E questo grido è la professione di fede che risponda all'evangelizzazione. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. A questo punto, fatta la professione di fede, che cosa accade? La gente non lo vuole sentire. E vuole impedire a questa persona di rispondere alla professione di fede. Ma la persona che ha ascoltato la buona novella non può tricere. Ma la persona che ha ascoltato la buona novella non può tricere. E grida più ancora di prima. Ma non può tricere più di più di più di più. A questo punto c'è la parola di Gesù, questa persona. Cosa vuoi? La risposta è semplice. Signore, che io veda. E Gesù con la sua parola opera il miracolo. La parola, il verbo di Dio, con la parola opera il miracolo. Cosa succede? Che la persona usa la parola ancora una volta. La persona guarita. E perché cosa la usa? Per dire grazie a Dio. E per questo, per dire grazie. E per questo, per questo, per il farò, Passiamo dalla richiesta alla glorificazione. E in questo modo, la parola di Dio. E per questo, la parola di Dio. E cosa succede al popolo? E che sta succedendo al popolo? Il popolo che voleva impedire di parlare. Il popolo comincia anche lui a credere per dare l'ode a Dio. C'è la parola informativa, c'è la parola richiesta, la parola che domanda. C'è il tentativo di far tacere la parola, c'è la parola che mentre pronuncia salva. C'è la parola di chi vedendo questo sente di dover glorificare Signora. E' il punto di arrivo, è il momento in cui tutti coloro che sono presenti si uniscono a questa parola di gloria. Dopo aver impedito la parola, la pronunciano come parola di glorificazione. Allora oggi, ognuno di noi si domanda, qual è il suo modo di pronunciare la parola? Nella sua storia spirituale e personale, a quale livello si trova di questo? E a Dio verbo parola chiediamo dimostrarci come passare al livello successivo. E poi diciamo come passare a Bola, il quale è sboglio, che bisogna fare così, per andare a la prossima. Grazie.